Parliamo di banche e non per sottolineare crack o illusori rimborsi milionari. Questa volta al centro dell'attenzione c'è un nobile istituto di credito come la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo destinata a confluire nel gruppo intesa alla luce di fusioni che interessano altre sei, sette realtà bancarie. Il sindaco euganeo Sergio Giordani ha voluto ufficializzare una telefonata avvenuta venerdì con l'amministratore Carlo Messina per chiedere garanzie che contemplano aspetti significativi quali l'occupazione ed il mantenimento del logo. L'insegna, si sarebbe detto un tempo, riferimento storico per la città del Santo. Ho avuto in questi giorni una lunga conversazione, Giovanni Costa che mi ha aiutato molto, ho avuto ieri pomeriggio una lunga telefonata con l'amministratore legato Carlo Messina in cui ho chiesto per prima cosa garanzie sull'occupazione perché è una cosa che mi tocca molto e è una responsabilità e mi ha detto che non succederà assolutamente nulla, questa è garantita. In più mi preoccupavo di tante altre cose, ad esempio che il rapporto col credito non cambiasse, mi ha detto che si sarà fatta e penso di comune intesa un comitato, una commissione in cui sarà affidato a un soggetto importante che va ancora definito, in cui ci saranno le istanze del credito, le istanze per quanto riguarda eventuali aiuti per opere meritevoli, rappresenterà il territorio, si confronterà con l'economia, con i vari organi economici di Padova, per cui anche in questo ho avuto importanti assicurazioni, sarà quasi sicuramente, devo definire, ho chiesto che ci sia la direzione regionale di banca intesa, resterà a Padova, esatto, ma resterà ampliata, per cui vuol dire essenzialmente che non cambierà nulla. Ho chiesto anche con forza che rimanga il nome Cassa di risparmio, mi spiacerebbe molto che lo togliessero, penso che dispiacerebbe a tutti i padovani, in quanto fa parte della storia di Padova, ognuno di noi è cresciuto, che abbia fatto l'imprenditore, il piccolo risparmiatore, è cresciuto con due loghi a Padova, uno di questi è Cassa di risparmio di Padova e lo vivo, penso che anche come e mancati, dobbiamo pensare ci bene prima di eliminarlo.